Tre ore e mezza, dalle 16 alle 19 e 30, anzitutto per ritrovare la comunione ecclesiale incrinata da una decisione che ha diviso l'Episcopato. Adesso, su espressa richiesta di Papa Francesco, i vescovi tedeschi si impegnano a trovare un risultato, spiega una nota della sala stampa vaticana, possibilmente unanime e ispirato dalla collegialità. Nodo della discussione l'eventuale accesso alla Santa Eucaristia anche per il coniuge non cattolico in caso di matrimonio misto, più chiaramente in Germania è alta, come noto, l'incidenza di matrimoni fra cattolici e luterani. Nell'ultima plenaria dei vescovi tedeschi lo scorso febbraio è stato allora approvato un sussidio per l'accompagnamento pastorale di tali sposi, nel quale si apre alla possibilità di consentire l'accesso alla comunione del coniuge non cattolico anche come gesto per favorire l'ecumenismo. Il sussidio non è stato ancora pubblicato perché è approvato da oltre tre quarti dei presoli tedeschi, insomma a maggioranza, ma non all'unanimità. Così una minoranza non trascurabile, spiega la nota della Santa Sede, ha sollevato la questione direttamente in Vaticano. Sette, in particolare i vescovi diocesani, determinati a far chiarezze che ieri si sono confrontati. Capofila delle due opposte visioni, i due cardinali tedeschi, il cardinale presidente Reinhard Marx, favorevole alla distribuzione dell'Eucaristia, e il cardinale di colonia Reiner Volken, che insieme ad altri sei vescovi ha sollevato alcune questioni. Tre in estrema sintesi, stando a una nota della conferenza episcopale tedesca. Uno, validità teologica. Due, legittimità canonica. Tre, ricadute di tale decisione sul resto della Chiesa universale, cioè se una volta assunta, possa essere di fatto estesa anche in altri paesi. L'incontro si è svolto in lingua tedesca, in un'atmosfera cordiale e fraterna, precisa alla nota della Santa Sede. Per parte Vaticana presenti il cardinale Kurt Koch per l'unità dei cristiani, e naturalmente il prefetto della dottrina della fede, l'arcivescovo Luisa Ladaria, che adesso riferirà tutto al Papa.